Forse per le elezioni di secondo grado delle province è arrivato il momento buono dopo una serie di rinvii iniziati nel febbraio 2018 e che si sono ripetuti fino all'ultimo tentativo andato a vuoto ieri con la mancata unanimità dei capigruppo alla convocazione di un consiglio regionale straordinario sulla base dell'articolo 102 del regolamento dell'assemblea regionale al fine di rinviare le elezioni in programma il 6 aprile. Ora invece dopo la presa di posizione del capogruppo uscente del PD Pietro Cocco che non ha partecipato alla seduta i sindaci e consiglieri comunali hanno tempo fino al 16 marzo per presentare liste e candidature per le presidenze e i consigli delle quattro province sarde. Si possono candidare a presidente della provincia e sindaci il cui mandato non scada prima di 18 mesi dalle elezioni. Il presidente rimane in carica 4 anni ma decade con la scadenza del mandato di primo cittadino. Il numero di consiglieri provinciali anche questi espressione delle amministrazioni locali ha una composizione variabile in misura proporzionale alla popolazione del territorio di riferimento. A Nuoro ne aspettano 10 e restano in carica per due anni. Tra i partiti gli amministratori locali pertanto è iniziata una corsa contro il tempo che lascia pochi margini per trovare la quadra e presentarsi a queste elezioni di secondo livello che dovrebbero porre fine al commissariamento delle province. Enti che come l'araba fenice risorgono dalle proprie ceneri. Sono state abolite, riformate, trasformate e ora si apprestano ad una nuova tornata elettorale. A livello nazionale in senato la lega ha depositato un disegno di legge che vuole reintrodurre il suffragio universale per le province ma il problema degli anti intermedi rimane quello delle competenze e delle risorse che in questi anni sono state progressivamente tagliate.